Arriviamo a casa, ovviamente tocca tenere sempre il divano così, e il cane è là sopra. Cioè abbiamo un gatto o un cane? Cioè da qui, da qui, è andata a qui, perché non può salire qua. Bello alto, guarda lì c'è alta. Vieni giù adesso, vieni giù, dai, vieni giù, vieni giù, come sei salita? Che stupido cane. Vieni giù, Virgin, vai giù, dai, dai, su. Ciao, stupido cane.